Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926 per prima cosa iscriviti al canale è gratis Signori, verso Napoli-Torino e che dire, occhio perché poi abbiamo l'Europa League e questo fattore Europa League potrebbe ripercuotersi proprio sulla partita contro il Torino che a cosa mi intendo? Il Napoli ha un punto in Europa League, lo sappiamo, contro il Legia, deve portare a casa i tre punti però parliamo ora di Napoli-Torino, poi andiamo a parlare un po' di Napoli-Legia-Varsavia Occhio al Torino di Juric, sappiamo che Juric è una sorta di bestia nera del Napoli quando vede il Napoli e le sue squadre diventano tutte il Barcellona dei tempi di Messi, di Suarez e di Neymar quindi occhio perché Juric potrebbe farci cadere nel trabocchetto ci è riuscito l'anno scorso con il Verona proprio a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona quindi occhio veramente Come si può sconfiggere questo Torino? È molto semplice Allora, il Torino gioca per 60 minuti sono dati alla mano per 60 minuti in modo compatto e giocano in modo aggressivo sul portatore di palla Il problema di questo gioco aggressivo del Torino va a dimostrazione che nell'ultima mezz'ora di gioco il Torino prenda tanti gol prenda tanti gol perché non riesce a reggere mentalmente il livello che tiene nei 60 minuti precedenti naturalmente se tu corri per 60 minuti come un dannato l'ultima mezz'ora si è spompato si è visto anche con la Juventus nel derby e si è visto addirittura nella prima partita di campionato proprio contro l'Atalanta Detto questo, dobbiamo stare attenti e parte perché il Napoli, penso, faccia turnover non penso metta i titolari in campo i titolari, sono tutti i titolari ragazzi questi che vediamo giocare con il Napoli perché Lobotka sembra essere tornato Demme uguale quindi occhio ai mediani di centrocampo perché Demme potrebbe partire titolare secondo me facendo riposare Anghissa che ha giocato già con la sua nazionale per 90 minuti interi Ozyman dovrebbe partire titolare dico dovrebbe perché Mertens è in forma e potrebbe partire anche di lui titolare quindi occhio anche a questa mossa tattica Di Lorenzo si dovrebbe prendere la sua fascia di competenza occhio a Fausi Goulam che forse qualche spezzone di partita lo può giocare può giocare addirittura forse contro il Torino ora vediamo io spero di sì perché un giocatore come Fausi Goulam potrebbe far ritornare quella fascia al suo splendore di una volta anche se torna al 50-60% di quello che era con Maurizio Sarri ragazzi siamo a cavallo perché Goulam è un giocatore veramente che potrebbe regalarci tante gioie e addirittura potrebbe regalarci qualche cross decente su quella fascia detto questo perché vi parlavo di lei già Varsavia-Napoli perché Napoli ha un punto in Europa League e deve portare a casa assolutamente tre punti ma questo è un discorso che faremo poi dopo la partita che si giocherà domenica contro il Torino occhio perché poi alla prossima c'è Napoli Roma-Napoli scusatemi e quindi tu devi portare a casa i tre punti contro il Torino è fondamentale ragazzi continuare a vincere perché vincere aiuta poi a vincere è normale se tu continui una serie di pareggi e di sconfitte è normale che poi brami la vittoria e sarà più difficile tornare alla vittoria perché se perdi cali un po' psicologicamente un po' mentalmente perdi ma finché sei pompato così e vai sull'onda dell'entusiasmo perché il Napoli sta andando sull'onda dell'entusiasmo ed è bel gioco perché in campionato sta giocando veramente bene sta giocando bene anche in Europa League ma non ha raccolto per ora i suoi frutti veri o Mario Rui vabbè lasciamo stare detto questo io vi ricordo di iscrivervi al canale abbiamo superato i 2500 iscritti grazie veramente tanto sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926 ciao a you